Buongiorno e benvenuti a tutti cari telespettatori di FanoTV, sempre tantissimi dall'altra parte dello schermo, in tantissimi ci seguite ogni giorno sempre di più, questo davvero ci fa enormemente piacere. Allora buon caffè se state prendendo il caffè alle sette e mezzo del mattino e ci seguite in diretta come sempre, oppure buon pranzo se state pranzando perché magari seguite la replica delle 13 e 30. Allora andiamo con ordine, vediamo subito il santo di oggi, oggi in realtà la Chiesa Cattolica ricorda la cattedra di San Pietro Apostolo, oggi celebriamo questa festa, si tratta di un'antica tradizione, nella Roma antica infatti il 22 febbraio per venerare i defunti si usava a mangiare presso le loro tombe, ogni tomba era considerata una cattedra, cioè un seggio riservato al defunto, immaginando che anche lui mangiasse al banchetto. Dal IV secolo in poi i cristiani cominciarono ad onorare la cattedra di Pietro che è venerata nella Basilica Vaticana, nell'altare che porta appunto il suo nome. Sole surto le 6.55, tramonterà le 17.48. Vediamo il tempo, il bollettino meteo della protezione civile delle Marche. Per questa mattina cielo sereno o poco nuvoloso con venti di brezza tesa da sud. Per domani, giovedì 23 febbraio, ancora cielo sereno o poco nuvoloso con venti di brezza tesa, moderati, con raffiche e vino fino a vento forte sulle zone interne e venerdì 24 febbraio, parzialmente nuvoloso il cielo con addensamenti a ridosso dei rilievi appenninici, dalla serata ci saranno dei piovaschi sparsi nelle zone però dell'entroterra, mentre saranno occasionali altrove. Le temperature venerdì saranno in lieve aumento, i venti saranno sempre moderati nelle zone interne e lungo la costa, con raffiche fino a burrasca sul crinale appenninico. Nella prima parte di sabato ci saranno rovesci sparsi in esaurimento nella mattinata e poi ci sarà un rapido miglioramento nel pomeriggio, sempre di sabato, con prevalenza di sereno, con giornate stabili per i giorni seguenti. Dunque l'ultima giornata, l'ultimo periodo di carnevale dovrebbe essere dal punto di vista meteorologico comunque buono, tenendo conto che giovedì sarà giovedì grasso, poi domenica a Fano c'è l'ultima sfilata ma ci sono carnevali un po' sparsi dappertutto e poi martedì si chiude il carnevale, con il rogo del pupo e poi ci saranno le ceneri. Allora cominciamo a vedere adesso i giornali, cominciamo dalla pagina di Fano del Corriere Adriatico che mette la cronaca e la vicenda di quel tartufaio che si era insospettito perché nel suo campo vedeva che c'era qualcuno che andava a prelevare, a prendere, a rubare i tartufi e così si è un po' ingegnato, ha preso una macchina fotografica, l'ha piazzata, poi insomma anche la fotocamera trappola è stata rubata, alla fine si è appostato lui di persona fino a quando non ha visto il ladro di tartufi e poi da lì è scattata una denuncia, una segnalazione ai carabinieri di saltare che poi dopo una serie di indagini hanno portato alla denuncia di due tartufai che in realtà già avevano messo la mano nella marmellata anche tempo addietro, insomma erano già noti in qualche modo. Poi sempre nella pagina di Fano, vigilanza e repressione intesa tra le due polizie locali ovvero quella di Fano e di Cartoceto, è stata rinnovata ieri questa collaborazione tra i due corpi di polizia. Camperisti al Carnevale di Fano, potenzialità da sviluppare, il Comune stima 40 mila presenze con mezzo milione di indotto all'anno e sarà presto avviato un progetto territoriale di accoglienza con fondi europei. Mentre attenzione perché oggi alle 15.30 al Palavulon di Marina dei Cesari ci sarà il Castagnolo d'Oro con le case di riposo, una iniziativa, una manifestazione che quest'anno ha organizzato l'ente carnevalesca con tutti coloro che per esempio fanno parte delle case di riposo, non solo di Fano ma anche di fuori regione, i centri diurni, i centri sociali, i club anziani del territorio, insomma una bella festa che seguiremo anche noi con le nostre telecamere. La cronaca, neopatentato si schianta, ha ferito un bambino, è successo ieri mattina alle 8 a Fano, un uomo di 55 anni stava portando a scuola il figlio di 12, a un certo punto un neopatentato ha sbandato, gli è andato contro e c'è stato questo incidente vicino Cucurano. Sulla questione delle scuole aperte, le verifiche dopo il terremoto dei mesi scorsi, 30 scuole aperte, sono a norma a Fano solamente 7 edifici, per la Nuti e la Padalino verificato l'indice di vulnerabilità nel resto delle strutture invece del Comune da eseguire ricognizioni e lavori di adeguamento. La questione è stata sollevata in Consiglio Comunale dal Movimento 5 Stelle di Fano con la risposta dell'assessore Cristian Fanesi. Dalla Valle del Cesano Carnevale a Pergola, la Proloco propone il BIS, domenica sfileranno 6 carri allegorici nei preparativi coinvolti circa 200 volontari, mentre a Orciano terre roveresche si è discusso con il Presidente della provincia di Piesolo Tagliolini della voragine, della frana che ancora è lì, ora l'impegno del Presidente è quella di garantire al più presto i lavori, c'è stata questa assemblea, il lavoraggine sarà chiusa secondo Tagliolini entro l'estate ma ci sono stati malumori tra il pubblico per l'azione della provincia, tante le difficoltà però burocratiche, mentre a Fratterosa la chiesa di San Giorgio è tornata agibile. L'altra notizia da Senigallia invece, vigili urbani e furbetti delle graduatorie, in quattro hanno gonfiato i voti della maturità, la verifica è scattata dopo l'errore segnalato da un agente appena assunto e poi subito licenziata, è stata accertata, dice Laura Filonzi, direttigente del personale, è stata accertata l'erroneità di alcune dichiarazioni, la giustificazione dice è uno sbaglio nella compilazione scivolati in basso nell'elenco, insomma questa è la giustificazione. Ricatti Ardi invece, ieri vi abbiamo dato la notizia nel telegiornale, una notizia che arrivava da Iesi, la donna, una rumena che ha spillato in tutti questi anni, in un paio d'anni, circa 240 mila euro all'ex. La donna è stata però arrestata mentre prende un altro denaro per non divulgare foto e video delle notti di sesso. Ricatto Ardi dall'amante Scaltra, è una storia che troverete sulla pagina di Iesi. Poi sotto, ancora Carnevale, mascherate, maschere, arte e divertimento, arriva Carnevale in Cagliesi, definito il programma degli appuntamenti, una cena con Casanova. E poi il basket, il basket a Pesaro che piange la morte di Dino, Roberto Donati, stroncato da un male incurabile a soli 47 anni, il cordoglio di WL e BIS, campione d'Italia con il Bramante, poi giocò nelle Minors per gli amici, era Meneghino. Oggi il funerale a Monte Labbate, presente una delegazione della squadra di basket pesarese. E ancora, da Urbino, il Partito Democratico prepara il conto a Gambini, il sindaco. Nessuna strategia e tanti litigi. Il segretario Scaramucci boccia i due anni e mezzo della Giunta e parla di implosione, ambigui sulla sanità e carenti sul turismo, tutto è emergenza, anche il Natale. E poi, ancora dal Corriere Adriatico, andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano. Si parla di deregulation e di sosta nella ZTL a Pesaro. Giro di vite sui permessi, troppe auto in piazza del popolo e nella ZTL. La stretta ai permessi è vicina, serve ancora un mese. Si lavora al piano per la revisione. Oggi i tagliandi sono 3.954 a Pesaro. La revisione riguarderà il carico e scarico merci. Ci saranno nuove fasce orarie e ci saranno novità per i residenti. L'idea anche è quella di aprire alla sosta nel cortile dell'ex manicomio San Benedetto. E poi c'è la pagina, la fotografia con la notizia della sparizione di Pippo, che è un pasticcio internazionale, il killer del catamarano, Orlando al Portogallo. Come si può scarcerare un killer? Questa è la domanda. E poi, sempre sul Corriere, d'aspo urbano e zone a rischio, da Pesaro questore sindaco riferiscano le nuove misure del decreto al centro di un consiglio monotematico. L'opposizione ha raccolto delle firme. Mentre oggi è una giornata importante anche sulla sanità provinciale, perché il presidente Luca Ceriscioli sarà a Urbino per ascoltare i tredici sindaci, fa discutere però l'incontro che è blindato, mentre i sindaci del patto di piagge continuano a insistere e dire che la riforma sanitaria che ha studiato, ha proposto e propone la Regione va assolutamente cambiata. C'è un clima teso dunque oggi al collegio Raffaello, in una sala blindata, dicevo, i sindaci del Pesarese si riuniscono per parlare dell'organizzazione sanitaria, una partita che al contrario meriterebbe di avere un pubblico, considerato le tematiche che riguardano la collettività. E sulla sanità sotto il Corriere pubblica anche una notizia da Fossombrone, colto da infarto ma l'ambulanza non era disponibile, l'uomo doveva essere portato da Fossombrone ad Urbino ma è dovuta interverire una ambulanza da Caglia, appunto perché quella del 118 di Fossombrone era fuori per un'altra chiamata. Chiudiamo il Corriere Adriatico, adesso andiamo a vedere il resto del Carlino, questa è la pagina principale con la fotonotizia che riguarda ancora una volta le discariche a cielo aperto nella città di Rossini, discariche in centro, rifiuti tra via Mazza e via Petrucci, il degrado di palazzi a monimo e dunque continua il resto del Carlino a questa opera, questa pubblicazione di notizie che riguardano il degrado urbano un po' in giro e sparso per la città. Il killer invece del Catamarano è libero, è una tragedia senza fine, scarcerato in Portogallo, familiari, amici e gli amici di Anna Maria Curina dice ma chi lo protegge? E poi c'è un appello che vedremo tra un attimo, l'appello ad un ciclista, mia madre ci ha lasciato, vorrei sapere che cosa ha detto, le sue ultime parole e poi rubano il campo dei tartufi, denunciati. Questa è la prima pagina del resto del Carlino, andiamo dunque a leggere a pagina 4 del Carlino di oggi questo titolo, un ciclista soccorso e mia madre, vorrei sapere le sue ultime parole, è l'appello della figlia di Zita Cupparoni investita a Monte Guiduccio. L'incidente è accaduto il 7 dicembre del 2015, lui disse ad altre persone che ci avrebbe chiamato, lei non ha più ripreso conoscenza, mi è rimasto questo cruccio dentro e quindi vorrebbe incontrare l'appello che lancia sul giornale e noi di riflesso sulla televisione, è proprio questo, l'appello di questa figlia che vuole sapere appunto che cosa ha detto la mamma a questo ciclista che l'ha soccorsa e dunque le sue ultime parole. Andiamo sulla pagina di fame invece del Carlino, vediamo subito il titolo, Sanità, radiografia alla spalla sana, rovinata, ora chiedo i danni, accuse per l'errore, poi mi sono dovuto operare, Adriana Broccoli di 48 anni di Fano, dopo una caduta, quando sono tornata dall'ortopedico la situazione era diventata grave, mentre per il concorso delle scuole una valigia per la Shoal, l'elogio del prefetto dopo il premio di Mattarella alla quarta del liceo Torelli di Fano. Il carnevale invece si mette la cuffia, Silent Party, la discoteca all'aperto, in centro ma senza suono, parte proprio da Fano il tour che poi approderà nelle altre città. L'appuntamento è in piazza alle ore 19 per un tour che farà il giro dei carnevali d'Italia. Che cos'è Silent Party? Lo diciamo anche agli anziani che magari non conoscono, gli risultano un po' strane queste parole. Guardate la fotografia, ve la spiego in 30 secondi così lo capiscono tutti. Allora vedete queste persone praticamente indossano delle cuffie acustiche, quindi mettono sulle orecchie queste cuffie, dove viene suonata della musica. Però di fatto se uno non ha le cuffie non sente niente perché la musica viene diffusa soltanto attraverso le cuffie e questa gente con tutte queste cuffie balla. Quindi chiaramente per chi non ha le cuffie vede tanta gente che si muove, che si scatena, che balla, può essere anche una cosa divertente, un po' ironica, simpatica, però ecco per ballare servono le cuffie. E questo è un momento appunto del Silent Party si chiama, un party silenzioso che però di fatto per chi ha le cuffie non lo è, perché dentro c'è la musica. Così abbiamo spiegato una cosa che magari per molti giovani è assolutamente normale, ma insomma anche per quelli che non sono poi così giovani, giovanissimi. Allora, superstrada, pezzi del ponte cadono sul Parabrezza, è successo a Fano, guardate la fotografia, è successo sulla superstrada 73 bis verso Fano e insomma ci sono stati attimi di paura per questo automobilista. Poi la tartufaia invece, simile a quella di Colli al Metauro dove si è verificato il furto, va nel campo coltivato tartufo e li ruba, viene filmato e denunciato con un complice, un sessantenne di Lucrezza, sorprende il ladro. I carabinieri poi sono andati a casa, da un albero ora sparita anche a una fotocamera, recuperati due etti di tartufo nero. Da Pergola invece ospedale salvo solo se ha il pronto soccorso, Antonio Baldelli della maggioranza replica a Peverlieri del Partito Democratico. A Cagli invece dove i malviventi si trovano bene, ancora raffiche di colpi, ancora raffiche di colpi in vari appartamenti, chiesti rinforzi dei carabinieri, a quanto pare i ladri stanno in questo periodo, stanno puntando e stanno mirando su questa località, su Cagli appunto per le loro scorribande notturne. Famiglia in salotto, ladri in camera, tre case anche a Fermignano. Direi che possiamo fermarci qui per ciò che riguarda la nostra rassegna stampa. Vi ricordo che questa sera intanto c'è il numero di telefono che potete segnarvi sul vostro cellulare, memorizzatelo per i vostri messaggi, le vostre fotografie, le vostre segnalazioni, anche di cronaca, da qualunque parte voi ci seguiate, ma dicevo questa sera dopo il telegiornale c'è Primo Cittadino. Primo Cittadino è l'appuntamento con il Sindaco di Fano, il Sindaco di Fano sarà qui, Massimo Seri, risponderà per circa un'ora alle vostre domande, alle vostre richieste, basta chiamare l'86 14 33. Grazie per averci seguito, a voi tutti gli auguri di una buona giornata.